Ma che dire, Leonardo ha già detto tanto, io ho conosciuto Vanni Valente, l'ho incontrato un paio di volte e lui mi ha proposto venire in America per fare un investimento, diciamo che l'idea mi è piaciuta ho trovato in Vanni una persona molto seria, ho passato dieci giorni con lui, con la sua fidanzata l'amico Leonardo a girare i mobili, Vanni Valente mi ha confermato la serietà nel suo lavoro e posso dire che chiunque voglia contattare Vanni e fare un investimento in America, Vanni è la persona più giusta